E' in condizioni gravi in ospedale l'uomo 30 anni circa che ieri sera è stato aggredito da due persone probabilmente con un macete in via Panizza una zona residenziale nel quartiere Mirafiori Nord a Torino. L'uomo ora si trova in ospedale in prognosi riservata e intubato. A quanto si apprende la gamba che rischiava di essere amputata è stata rivascolarizzata durante l'intervento però l'operazione è da completare dal punto di vista del sistema nervoso. L'uomo è stato aggredito da due persone a volto coperto che l'hanno inseguito in scooter mentre si trovava in compagnia di una ragazza. Sempre a bordo dello scooter gli aggressori sono fuggiti dopo averlo ferito. Da una prima ricostruzione il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un litigio in strada. L'uomo è stato trasportato dai soccorritori del 118 al CTO di Torino. La polizia sta cercando di risalire all'identità degli aggressori.